Ciao, siamo presso l'aeroporto di Rivolto, sede della pattuglia acrobatica nazionale. Da qui voglio inviare un messaggio di augurio a tutti i casalboresi e alla comunità irpina. Ormai è da più di un anno che la pandemia ci costringe a stare a casa, ci condiziona la vita e di riflesso condiziona anche l'attività del nostro reparto. Ma le frecce tricolori sono pronte a ricominciare ad esibirsi in tutta Italia appena la situazione sanitaria ce lo permetterà. Sono sicuro che i casalboresi e la comunità irpina faranno affidamento alla loro coesione e al senso di dovere per affrontare correttamente il processo di ritorno alla normalità. Non molliamo, presto ci rivedremo tutti insieme. Buona Pasqua, buona Pasqua a tutti! Buona Pasqua, buona Pasqua a tutti! Buona Pasqua, buona Pasqua!